Orlando di Roncisvalle, la leggenda del paladino franco. Orlando di Roncisvalle è uno dei personaggi più iconici della letteratura epica medievale. È il protagonista della Chanson de Roland, un poema epico francese del XII secolo che narra la sua morte nella battaglia di Roncisvalle. Orlando era un nipote di Carlo Magno, il re dei franchi. Era un guerriero valoroso e coraggioso, e un fedele servitore del suo re. Era anche un uomo leale e generoso, e un difensore della cristianità. La battaglia di Roncisvalle fu una sconfitta per i franchi. L'esercito di Carlo Magno fu assalito e sconfitto da un gruppo di saraceni. Orlando, che era a capo della retroguardia dell'esercito, combatte valorosamente, ma alla fine fu ucciso. La morte di Orlando è un momento di grande pathos nella Chanson de Roland. Orlando è un eroe tragico, che muore per difendere la sua fede e i suoi valori. La sua morte è un monito per i cristiani, e un esempio di come la lealtà e il coraggio possono essere fatali. La figura storica di Orlando La figura storica di Orlando è meno nota di quella leggendaria. Non ci sono fonti contemporanee che lo menzionino, e la sua esistenza è stata messa in dubbio da alcuni studiosi. Tuttavia, ci sono alcuni elementi che suggeriscono che Orlando possa essere stato un personaggio reale. Innanzitutto, la battaglia di Roncisvalle è un evento storico documentato. In secondo luogo, il poema epico che narra la sua storia, la Chanson de Roland, è stato composto molto vicino alla data della battaglia, e quindi è probabile che sia basato su eventi reali. Se Orlando è stato un personaggio reale, è probabile che fosse un guerriero valoroso e un servitore leale di Carlo Magno. Tuttavia, la sua figura è stata certamente leggendaria, e la Chanson de Roland ne ha creato un eroe perfetto, che incarna i valori della cavalleria e della cristianità. L'eredità di Orlando La figura di Orlando ha avuto un'enorme influenza sulla cultura occidentale. È stato rappresentato in innumerevoli opere d'arte, letteratura e musica. È anche il protagonista di numerose opere teatrali, filme e serie televisive. Orlando è un eroe universale, che incarna i valori della giustizia, del coraggio e della lealtà. La sua storia è stata raccontata e rivisitata per secoli, e continuerà a ispirare le generazioni future. Un esempio di come la cultura popolare possa trasfigurare la realtà storica. La figura di Orlando è un esempio di come la cultura popolare possa trasfigurare la realtà storica. Orlando è un personaggio che ha origine in un evento storico reale, la Battaglia di Roncisvalle. Tuttavia, la Chanson de Roland ha creato un eroe perfetto, che incarna i valori della cavalleria e della cristianità. La leggenda di Orlando è un prodotto del suo tempo. È stata scritta in un'epoca in cui la cavalleria era un'istituzione importante, e i valori cristiani erano dominanti. Tuttavia, la leggenda ha continuato a sopravvivere e a ispirare le generazioni successive. Orlando è un personaggio che continua a parlare ai nostri cuori. È un eroe che rappresenta il meglio di noi stessi, il coraggio, la lealtà e la giustizia.